Lavorano assiduamente da oltre un decennio. Il nostro intento è quello di informare la categoria sulle numerose attività di rappresentanza fino ad oggi condotte negli interessi dell'intera filiera. Innanzitutto, mi preme evidenziare che la crisi del comparto costruzioni, che ha pesanti ricadute anche sulle nostre attività, impone una maggiore unità del comparto. Solo e unicamente attraverso il rispetto, la collaborazione reciproca e trasparente, si possono conquistare dei traguardi. Ognuno di noi ha almeno tre obiettivi comuni, che sono la tutela delle nostre attività, ridurre la concorrenza sleale, interna ed esterna, ampliare il nostro mercato. Ce ne sono molti altri, ma servono solo come esempio per raccontare che se uniamo le forze nel rispetto etico del nostro lavoro, possiamo anche avere maggior voce in capitolo in ambiti istituzionali e legislativi. Una unità che deve partire dal nostro territorio provinciale, ma che si estende alla rappresentanza sia a livello regionale che nazionale. In questo senso, in questo ultimo anno, abbiamo continuato a collaborare a livello regionale con Compartigianato Piemonte, unitamente all'Unione Cavatori di Bagnolo e a Consorzio di Luserna, Rorà, partecipando ai tavoli di confronto sia con le altre rappresentanze delle imprese, in particolar modo con Compindustria, sia con i diversi settori della regione Piemonte. Colgo l'occasione per anticiparvi che il 5 luglio a Torino ci sarà Assemblea regionale per la costituzione del nuovo gruppo regionale CAVE ed attività estrattive, con l'elezione del rispettivo presidente che parteciperà all'Assemblea nazionale se si riusciranno a costituire almeno altre 5 federazioni regionali. Il presidente verrà eletto anche in base al numero di attività rappresentate. A livello nazionale è continuato il confronto con gli altri vaccini estrattivi, con particolare riferimento al Bresciano e Carrara, ma siamo stati presenti anche al primo tavolo nazionale promosso da Carrara Fiera e Verona lo scorso anno durante la fiera di settore, a cui hanno partecipato i rappresentanti di quasi tutti i vaccini italiani e le rappresentanze nazionali di confindustria e compartigianato del settore lapidio. Ci tengo a sottolineare quanto sia di fondamentale importanza il confronto con le attività presenti che hanno voluto essere qui con noi. È un piacere portarvi il saluto di compartigianato di Presidio Montiorentale a una volta come questa, a questa importante riunione perché è voluta, patricinata proprio la confronto con il confronto con la sovranita. Mi volevo dire perché questa sera sicuramente in programma lo sviluppo delle più importanti azioni che speriamo di mettere in campo per il vostro settore. Mi incontro che spero, sono certo che possa dare fiducia, quando non una forza nuova a questo settore che sicuramente in questo momento sta attraversando un bel periodo, un settore dove le vostre aziende stanno chiedendo, molte hanno chiuso, i posti di gestione ormai in corpo libero, magari anche normative che non sono certamente a vostro favore. Ma sono convinto che l'ascolto, la reciproca comprensione, la disponibilità, l'incontro sul terreno proprio del fare, del sostenere l'impresa e del mondo del lavoro considerando di superare queste difficoltà, quantomeno possa consentire alle nostre comunità e ai nostri territori di svilupparsi, certamente di progredire, certamente di non morire. Portavo anche dal mio recente intervento all'Assemblea di Golavena che ci è stato questo sabato, vogliamo ambienti in cui vivere e intraprendere, creare comunità e proprio perché questa sera siamo qui perché siamo qui con le nostre imprese, con il nostro impegno, con il nostro lavoro anche a fare comunità. Un termine che sicuramente voi qui in Ossola avete capito. Ciao, vi ringrazio ancora per la vostra presenza, ringrazio il nostro Presidente di Assogramiti, anche il nostro dirigente di Confartigianato, probabilmente per l'impegno e la passione che vi mette nella difesa del nostro settore. Grazie, grazie. Ora passiamo la parola al Vicepresidente, il Signor D'Arvista. Io ringrazio tutti, in particolare le autorità politici che ci rappresentano e poi sono qui per parlare di tutti altro da cavatori e con i cavatori. I cavatori bisognerebbe capire perché i morti rinunciano alla sua presenza, almeno in presenza. Poi ci sarebbe da capire a livello politico che si accorge che eravamo 106 a là e non siamo 30, lo sappiamo che siamo meno. Se i politici aspettano e ne dobbiamo chiudere ancora degli altri oppure bastano questi. E perché si chiude credo che non è solo il mercato. Perché si chiude noi sappiamo che la maggior parte dei giacimenti sono comunali pertanto pubblici. Questi giacimenti pubblici che quando vanno all'asta vanno quasi per milioni di euro per lì. Se c'è a livello politico la volontà che questi giacimenti si può dialogare con i fatti che ricorrono oggi. Oggi quello che una volta era 10, non è più 5, ma è 3, è 2. Allora per dialogare a questo livello c'è la consapevolezza che il settore ha una molteplicità di problemi, anche per dare un po' il senso di un lavoro che si sta cercando di fare, anche riconoscere come adagio d'alto interventi che stanno attivando in questo settore come suoi altri settori cercano di migliorare la condizione. Vi ricordavo che abbiamo fatto in Piemonte una legge sulla semplificazione alla fine del 2014-2015 e all'interno della legge sulla semplificazione abbiamo introdotto la normativa proprio richiesta per dargli associazioni rappresentative dei lavoratori, dei lavoratori, delle aziende che lavorano la più parlamentare che ha cercato di intervenire in questo tipo. Poi in Regione sappiamo che c'è stata una fase di forte attenzione, che continua anche, legata al fatto che a partire dal collineo della settimana prossima partirà la riflessione del Consiglio regionale sulla nuova proposta di legge che cerca di regolamentare il settore dell'escavazione e della lavorazione delle regolamentate. Ora proprio su questo tema vorrei dire che come giunta regionale, cercando di cogliere le esigenze che le organizzazioni rappresentative abbiamo cercato di svolgere l'assessore Bessantes e io un ruolo che cercasse di far incontrare due mondi quello un po' astratto che stava affrontando il tema di nuova legge sull'attività istrativa del Consiglio regionale e quello invece rappresentativo delle istanze dell'imperatore. Poi c'è stata una riunione di un ruolo di settimana fa, con la quale abbiamo cercato di capire su un testo quali erano ancora le criticità più forti che le organizzazioni presentavano. C'è stato un nuovo incontro proprio martedì, mi sembra che nell'incontro dei martedì si sia incominciato a rappresentare il fatto che comunque le osservazioni che le organizzazioni non italiane avevano rappresentate sono state in gran parte accolte o verranno accolte, poi le esigenze di una discussione che avverrà in Consiglio regionale, quindi con anche un livello di autonomia. Ma diciamo, per quanto riguarda la giunta, una proposta di legge parte in Commissione 39, c'è moltissimi avventamenti che in gran parte colgono quelle che sono le tematiche che sono state raccontate. Il punto è che questa legge deve regolamentare il settore, deve dividere sostanzialmente le due problematiche tra l'attività estrattiva e dipendere da quella dell'attività di escavazione di sardeghigliaia, non deve rimangiarsi in passi in avanti della strada del punto, ovviamente sulla semplificazione e diciamo, molte delle questioni mi sembra che siano state approfondate. Poi c'è ancora molto durante il lavoro in Commissione, poi il Consiglio regionale si è mai di intervenire positivamente sul tema. Però mi sembra che il segnale sia stato forte e l'importante. Gli altri due, se volete possiamo anche vederli, però, nel momento di confronto e di approfondimento, c'è un passaggio nella lettera di trasmissione che può in generale un sospetto, un dubbio, cioè che si trasmette per la presa d'atto. Invece la trasmissione non è una presa d'atto. Si trasmette una proposta che sarà oggetta in un confronto, lo anticipavo prima, al Presidente della provincia, l'un settimana prossima, nella prima settimana prima di luglio, tra la regione e la provincia di Dicefio, doveva passare e rispondere a quelle che sono le indicazioni più forti, perché il limite del possibile attraverso la predisposizione dei regolamenti di gestione delle ZBS e dei SIC, ci vuole cercare di rendere, diciamo, più fortemente compatibili la finta, e che si trasmette anche con le normative sulla protezione. Una volta condiviso questo tipo di contenuti di regolamenti con la provincia da parte della regione, anche su questo tema ci saranno delle gattie da alla provincia del Dicefio per poter gestire questo tipo di cose. Il terzo strumento che è un po' sottovalutato, ma sono molto importanti e anche nei suoi effetti ipogeneri, che si sta definendo, si sta quasi ultimando la fase, è il piano paesaggistico regionale. È un po' sottovalutato perché, come state anche le sollecitazioni che sono state espresse dalla regione, nei confronti di un buon per le stazioni comunali, pochissime osservazioni sono arrivate, normalmente sui piani paesaggistici arriva a dire a di mio, voglio dire, le mie osservazioni. È chiaro che il piano paesaggistico ha come obiettivo fondamentale quello di salvaguardare l'ambiente e di tutelare quelli che sono i valori e i beni destinati a dover durare il tempo, e quindi è troppo l'opera di commisione, anche con lo Stato Stato. Però mi sembra che il lavoro che si sta facendo, come lo confermava anche Marco, c'è un problema, tra la struttura regionale e i soggetti che condono e portano le questioni all'interno del piano paesaggistico, regionale in questa fase degli esami delle osservazioni e quindi è un lavoro che tenta di evitare sostanzialmente conseguenze negative e devastanti sulla vita economica e sul sistema territoriale della regione e cerca sostanzialmente di trovare un punto in quale. Io non vado oltre. Sono tre momenti diversi, che coincidono fortemente o possono coincidere fortemente in senso positivo e in senso negativo sulla soluzione di tematiche importanti che riguardano l'attività istituzionale. A me sembra che si sia invocato una strada che è quella del confronto che consentirà sostanzialmente di evitare che in questi provvedimenti alla fine del risultato finale è quello di aver complicato la vita agli imprenditori che quasi vengono ancora più problematiche. Tra figure che chi da più tempo chi da meno, forza deve trovare un confronto con un settore così importante nel loro attività.